Una delle situazioni che più adoro su Warzone 3 è quando becco qualcuno in lobby molto forte che mi riconosce e cerca di uccidermi Ragazzo che ho beccato in questa partita è stato prima ucciso poi mi ha mandato un messaggio dicendomi che sarebbe tornato per distruggermi E così è stato raga mi ha fatto una kill che è veramente incredibile sono serio mi ha proprio distrutto Complimenti a lui le cose purtroppo però non sono andate come lui ben sperava e lo vedrete voi stessi nel finale del video Poi ovviamente il tutto è stato correlato da insulti poco carini proprio tipici del player medio di Warzone E quindi diciamo da una cosa carina e divertente si è passati un attimino alla parte tossica di questo gioco di questo Warzone La community di Warzone quindi secondo voi è davvero così tossica guardate il video e ditemi un po' cosa ne pensate Lascia un like un commentino iscriviti al canale grazie mille del supporto buona visione Dai io vado a mall allora splittiamo tanto questa qua è il lobby da record bro Speriamo Non ti finire Piace Ok allora qua ne ho altri due Si ne hai uno a metà piano Uno one shot sopra Uno qua sopra Il sicario Vado a fare il UAV Eh si UAV Vado a fare il drop Let's go Lascio i risordi Grande c'è un giro fk Torno subito da te Daie A me non sembrava tanto fk Se si muoveva No magari c'è un po' di lag Dai Ci sta ci stanno Infatti c'è dalla skin ho detto non può essere così Soprattutto quelli con quella skin là Come cavolo è sopra? Eh si Uno si è appena lanciato l'altro c'è il pompa Ok Nessuno di due è tu Minchia Pensavo Due one shot Mi hai fatto uno o tutti e due Non ho uno Non so dove sei Non ho Manco ho visto dove l'ha pingato Non lo sento qua Non lo sento salire da qualche parte È sotto è sotto Ok l'altro è qua sotto Questo sale Io lo prendo da su allora Mi sarà in una stanzina qua Eccolo qua Guardalo minchia È qua sulla stanzina a fronte a me A destra tua Eccolo è qua dentro a me Madre mia Che palle Odio sempre C'è 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 sempre Il cacchio di angolo sbagliato Ogni volta Madre mia Ma è una volta che mi giro dalla parte giusta Eh ci sono le tue armi sotto Sì sì vado vado Grazie Prendiamo ti lascio dei soldi qua Facciamo un bambino Ottimo Perché non Ma è già finito l'ovì Ah no ok Ma io sento uno Uno sotto Uno sotto Perché Uno sotto sta salendo Che va te Che ce ne sono altri due Dietro tipo Ok Cosa macchia qui Eh dallo shop Dallo shop È esattamente lui Eh ok Io Dove sei? Sono droppati qua da fronte Ok One shot Ok GG Bello bello Guardami adesso Questo c'è lei sopra Ok Anche qua in open O è sopra pure sulle scale Non so Doveve sto andare uno dal mercato Eh ti ho one shotato quello che ti scrive sempre in cold Eh non è lui Non è lui Hanno la stessa skin Ma non è lui Oh marda C'è chi non va da sopra Tipo Eh in effetti Mi sta un po' rompendo le palle ti giuro Cioè Mi spara la tasso Qui la testa da lì Ok mi spara ovunque Mi spara ovunque Mi spara il cazzo Vai Abbiamo gente qua davanti In fronte sicuro Non so dove c***o siano Mi sento Un sacco qua No c***o Ma perché ho pushato con quell'arma Sono proprio Rinconito a volte Io vado A prendermi il lodi bro Dice ce la fai Sì Assolutamente Ok ok Altemi corazzo L'hai fatto? Sì Arrivo Ok Ho preso anche una pizza Che dove sono? Vedo dove? Versa antenna Versa antenna qua su Non so Potrebbe essere anche qua magari a destra c'è la gente? mi sembra quassù sicuro per forzare vado a fare un paio di uov perdete terreno, muovetevi hai fatto quello sopra di me per caso no? oh dimmi se gli è piaciuto questo edge shot al tipo l'ultimo non me lo pinga quindi boh ok cioè mi ha fatto una bella kill prima devo ammetterlo ma qui ha preso la pannocchia ci sta ci sta raga l'altro la era forte solo che si non trovo l'utilità tipo di scrivere cose qua cioè nel senso non è che grande gero fk per il lag e torno subito da te tutte cose così cioè nel senso ci sta per carità però scrivere you take the d*** che penso o the c*** o the d*** che qualcosa del genere che abbia scritto no occhio bro guarda che se ci fai così bro ci segnalano non rispondo proprio perché ho paura delle se dopo si mettono a segnalare di brutto ho vinciato a banni io non vorrei io non vorrei